Buon Dio, ce n'è dappertutto. Ha della benzina da qualche parte? Sì, nel magazzino. Sì, nel magazzino. Ecco. Grazie. Quando mi hanno visto, si sono subito sparpagliate. Con grande intelligenza, vero? Le rane pensano, i serpenti conoscono la strategia. Insomma, il loro cervello è come il nostro, va bene? Dove sono mamma e papà? Dov'è la mamma, che è? Papà non è ancora tornato col motoscafo e la mamma è uscita un attimo. Io però non l'ho vista. Mamma! Aspetta!